C'è un incendio sulla statale 195, appena chiamato i Vigili del Fuoco. L'incendio è partito dal basso ma sta andando sulle piante, gli eucalitus. Oltretutto sta diventando pericoloso perché c'è del fumo che sta invadendo tutta la carregiatta, tutta la statale. I soccorsi dovrebbero arrivare a momenti statale 195 prima di San Rocco. Grazie. Grazie. Un po' scoppia se non arrivano in fretta qui. Grazie. 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 Grazie.